Il signor Kanye West ha annunciato quale sarà la sua prima sneakers senza adidas e quindi brandizzata solamente Yeezy Nike vuole distruggere le Yeezy Slide e molto altro ancora Comunque, wella guys, come state? Spero tutto bene Benvenuti a tutti quelli nuovi e bentornati a tutti quelli vecchi in Caffè Hype Non è l'eroe che meritiamo ma quello di cui tutti abbiamo bisogno Ovvero questo è il mio format dove andiamo a berci un buonissimo caffè assieme E andiamo a farci 4 chiacchiere riguardo tutte le news che ci sono state nel corso della scorsa settimana Trascorrendo questi 10, 12, 9, 8 minuti nel chilling più totale Prima di iniziare però ti chiedo subito di lasciarmi un bel like, iscriverti al canale e soprattutto di attivare la campanellina delle notifiche Per non perderti nessun prossimo video Ma detto questo, alla vostra Comunque, weekly recap di quelle che sono state le scarpe più interessanti uscite nel corso della scorsa settimana Ho avuto tutta questa roba oltre alle Dunk Low in collaborazione con Clot e Fragment Come tutti sappiamo sono uscite per il ventesimo anniversario di Clot e questa è stata una scarpa davvero fantastica Come al solito sono riuscito a copparla però dato che oggi sto registrando il Caffè Hype di lunedì Mi deve ancora arrivare in giornata La consegna prevista dovrebbe essere tra le 4 e mezza e le 6 O 6 e mezza se non sbaglio Purtroppo, quindi, non ce l'avrò in mano Peccato, speravo comunque di portarvi un piccolo unboxing Se non riesco ad aggiungere una clip che magari mi arriva prima di finire di editare questo video Vi inserisco una clip però la vedo molto dura In caso contrario vi pubblicherò il classico shorts Quindi da 60 secondi Anche perché a me quella scarpa ha fatto letteralmente impazzire E soprattutto con i razzi blu diventa una hit pazzesca Attualmente il suo prezzo di resell varia intorno ai 350 Dato che lo stock in Europa era molto basso E se non siete riusciti a copparla Vuol dire che non avevate abbastanza account nel botto E se volete iniziare a guadagnare davvero con il resell Perché magari lo sai, magari no Ho dei percorsi di affiancamento Quindi scrivimi la parola diario in DM su Instagram se sei interessato Oltre alle cloth di drop interessantissimi Non è che ce ne siano stati altri Magari possiamo parlare delle Sporty & Rich In collaborazione con Adidas nel modello Samba Quelle tre colorway devo dire non sono assolutamente male Poi la Samba è una scarpa super in hype Purtroppo dato che è stato un drop dell'ultimo momento L'applicazione con Fortnite ha fatto letteralmente sboccare Uno schifo, c'è gente che non riusciva a partecipare Gente che magari riusciva a partecipare E alla fine gli dava errore nel pagamento Purtroppo questo è il gioco Quando Adidas decide di fare questi lanci E non come al solito Aprendo la raffle due o tre giorni prima Per poi chiuderla e fare le estrazioni Dalle nove e mezza alle dieci del mattino Della data del dropback E se non lo sapete C'è stato anche un restock Dei Big Red Boots Ovvero quelli di Astro Boy Per capirci E le taglie sono ancora tutte in stock Quindi se volete spendere 350 dollari Più non so quanto venga di spedizione Potete andarveli tranquillamente ad acquistare E con quelli ci potete andare a giocare a calcio Probabilmente nel campetto di scuola Ma detto questo Iniziamo con le news pesanti E soprattutto quella che a molti di voi interessa Ovvero stiamo parlando della prima sneakers In collaborazione tra Kanye e Kanye Come tutti sappiamo Sono mesi che lui vuole autoprodursi E qual modo migliore Se non appunto di prodursi le scarpe da solo Tutti abbiamo visto gli outfit abbastanza controversi Riguardo al fatto che si vestisse con dei leggings E queste scarpe a calzino Se così vogliamo chiamarle In passato abbiamo visto il fatto Che avesse depositato il brevetto Appunto per questo articolo E da pochi giorni sta spopolando su tutto il web Un video dove un fan Oppure un paparazzo Adesso non ne ho idea Gli ha chiesto semplicemente Se quelle scarpe usciranno Oppure no E soprattutto tra quanto tempo Alla domanda se usciranno Ha risposto di sì E a breve Per essere più specifico Ha detto Un paio di mesi Non usciranno mai Tra un paio di mesi Molto probabilmente Non sono nemmeno state messe in produzione Ovvero per il mercato di massa Anche perché un conto è quando ti affidiano a multinazionale come adidas E quindi riesci ad immetterti nel mercato Con una facilità estenuante Un conto invece è quando decide di autoprodursi Quindi solo il futuro ci rivelerà Cosa avrà in servo per noi il rapper americano Molto probabilmente nel fantastico mondo dell'internet avete sentito della seconda scarpa Per il film uscito il primo giugno Ovvero Spider-Man Across the Spider-Verse Uscito ovviamente al cinema Che ci hanno rilasciato la Jordan 1 Che tutti quanti abbiamo visto Però oltre a questa Girava voce che ce ne fosse appunto un'altra Ovvero nel modello sempre Air Jordan 1 Però nella versione Stash Utilities Allora la scarpa appunto uscirà È questa in foto Abbiamo l'immagine ufficiale Però solo per amici e familiari E si vocifera che le paia prodotte siano solamente 100 Quindi direi per fortuna Perché sono letteralmente orribili Poi opinione personale assolutamente non richiesta A me questo modello di J1 Con il sacchetto del fumo Non mi piace per niente Tutti sapete quanto mi piace la collaborazione Tra Mammanier e Nike Poi ovviamente Jordan eccetera E quanto mi piazza soprattutto La precisione e la cura dei dettagli Ed anche la qualità nei materiali Che vengono usati Perché banalmente su una Jordan 1 Ma in realtà anche su tutti gli altri modelli La qualità è stata davvero davvero alta E quindi indipendentemente dalla silhouette Esce una hit incredibile Abbiamo un'altra colorway della Jordan 5 E più nello specifico la Photon Dust Davvero una hit Come stiamo vedendo nell'ultimo periodo Che le Photon Dust escono letteralmente ovunque E' uscita la Dan Clow La Jordan 4 E adesso All Lapsus Oltre alla bellissima Dan Clow In collaborazione con Clot e Fragment E come detto ad inizio video Per il ventesimo anniversario di Clot Ne uscirà un'altra Solamente con Clot e Nike Questa Dan Clow verrà rilasciata Il 23 giugno su Juice App Si diceva che questo lancio sarebbe avvenuto solamente in America Però alcune voci adesso sostengono Che ci sarà anche un lancio in Europa Tramite applicazione sneakers di Nike Non è assolutamente confermato Se ci dovessero essere delle news Nelle prossime settimane Ve lo farò sapere al 100% Perché questa scarpa è davvero fantastica Un dettaglio molto particolare Che avrà saranno gli swoosh intercambiabili In queste svariate colorway Quindi non mancato assolutamente Se ci dovesse essere un drop Probabilmente sarà nella prima metà di luglio Dobbiamo parlare delle Air Max In collaborazione con Fortnite? No, credo che a nessuno l'interessa Quindi andiamo avanti Anche perché non abbiamo la più pallida idea Della colorway eccetera Quindi che ce ne vu Tutti amiamo le Easy Slide C'è poco da fare Non ho mai conosciuto una persona Che mi dicesse Guarda Marco A me fanno letteralmente cagare Poi li trovi sempre quei personaggi Però oggettivamente La Easy Slide è un articolo Molto molto riuscito bene Indubbiamente Nike finalmente vorrà fargli concorrenza E soprattutto concorrenza Quella che piace a noi Ovvero copiando la colorway Il design E soprattutto abbassando di prezzo Così da cercare di prendersi Il monopolio del mercato Comunque a parte gli scherzi Le colorway saranno molto molto simili Se non uguali E soprattutto Il design Vediamo come è stato preso spunto Però sicuramente Anche le Easy Slide Hanno preso spunto Da un'altra ciabatta E via dicendo Stiamo parlando comunque Di ciabatte Oltre a questo Usciranno con un prezzo di retail Di 20 euro inferiore Alla sua sorella Di adidas Quindi le slide Sono uscite a 70 euro E queste usciranno a 50 La data di release Dovrebbe essere Il 14 luglio Quindi Fra poco meno di un mese È stata venduta Una Jordan 12 A ben 1,4 Quasi Milioni di dollari La scarpa Ovviamente È game worn Ovvero Utilizzata da Michael Nel game 5 Delle finali NBA Del 1997 Segnando 38 punti L'asta si è conclusa Nella notte Del 14 giugno Ed è stata aperta Per oltre un mese Si è conclusa A questa cifra Davvero pazzesca Che è Tanta tanta roba Ultima notizia E poi chiudiamo la baracca Sono mesi Che non sento parlare Bene Di Supreme E la domanda Che tutti ci stiamo facendo è Ma Supreme Stava salendo? Beh sono usciti alcuni report Del fatto Che le aspettative Di profitto Non sono state rispecchiate Rispetto a quelle Che si erano prefessati I piani altissimi Di Supreme Le aspettative Era di fare 600 milioni di dollari Invece Sono stati fatti Circa 523 milioni C'è poco da fare Tutti notiamo Quanto l'hype Si è sceso Negli ultimi anni Per questo brand Di tavoli Da Eiro Che io come si chiamano Da 12.500 dollari Credo che non gliene freghi Niente Ma proprio Zero A nessuno Quindi magari Se si concentrassero A fare degli articoli Decenti Anche perché Quando esce La solita box logo O la solita Motion blur Box logo Eccetera Diciamo che rimangono In stock Per abbastanza tempo Che è una cosa Un po' preoccupante L'ultimo drop Che ricordo Di Supreme Fatto proprio bene E che lì C'era moltissimo hype E sentivo proprio In giro Tra le community O anche banalmente Nella mia Molta molta attesa È stato Quello In collaborazione Con Barberi Purtroppo Oltre a quello Non me ne ricordo Un altro Che abbia fatto Così tanto successo Ovviamente Dopo E se non sbaglio Era uscito A marzo 2022 Più o meno Detto questo Io vi auguro Un buon proseguimento Di giornata Mi finisco il caffè Quasi freddo Vi chiedo per finire Se il video ti è piaciuto Oppure semplicemente C'era qualcosa Che non sapevi Di lasciarmi un bel like Iscriverti al canale E soprattutto Di attivare la campanellina Del notifiche Così da aiutarmi Con l'algoritmo Di youtube Vi ricordo che Questa settimana Uscirà un altro video E davvero Super interessante Perché è qualcosa Di nuovo Vi ricordo che qui Trovate lo scorso episodio Di caffè hype Invece qui Le migliori 5 sneakers Che ormai Sono quasi uscite A giugno Grazie mille per la visione Buona giornata a tutti Grazie mille per la visione